Stanno facendo delle opere, delle infrastrutture, qui sono avviati dei lavori, anche questa volta vi sentite un po' tagliati fuori, scusi non sapete cosa sta avvenendo. Sì, noi ci siamo sentiti tagliati fuori fin dall'inizio in questa storia perché ci siamo trovati un pallone alto 12 metri davanti a una via dove abitano 40 famiglie e all'improvviso, dal giorno alla notte, senza che nessuno ci abbia avvertito, non c'è stata nessuna discussione, nessuno ci ha chiesto il parere, quindi l'abbiamo sentita come una grossa violenza, anche perché tra l'altro se si vedono le foto si vede che era sinceramente una grossa violenza fatta al quartiere, fatta al paesaggio e fatta alla qualità della vita dei cittadini. Abbiamo cercato di incontrarci con i responsabili, l'assessore allo sport, il sindaco, ma non ci hanno ascoltato, anzi ci hanno anche mentito perché ci era stato promesso un tavolo di discussione che non è mai stato fatto, questa cosa che sarà un grave danno per il quartiere, innanzitutto perché abbiamo perso un campetto da calcio e poi ci sono delle case, come questa qua davanti a me, che sicuramente perderà tantissimo valore economico perché avere un muro bianco alto 10 metri davanti alle finestre, chiaramente, a parte che ecco la qualità della vita, che si perde, si perde la luce, si perde il sole, ma si perde anche il valore economico, non è l'unica casa, strutture di questo tipo devono essere costruite dove non danno fastidio, insomma i posti ce n'erano, ce n'erano tanti, ne abbiamo discusso con l'assessore allo sport, ma non c'è stato verso, si è voluta realizzare qua e qui sarà un grosso danno. Anche qua giù che stanno gettando il cemento non sapete, non siete stati informati di nulla. Adesso stanno costruendo qualcosa, hanno recintato tutto, vediamo la pompa lì di cemento, probabilmente stanno facendo qualcosa, qualcuno dice che anche lì faranno qualche cosa che poi sarà coperto da un pallone. Viene fatta una barriera di PVC contenente un impianto sportivo che limita la visuale dei cittadini che ci abitano, oltretutto c'è da dire che in questo quartiere prima esisteva un giardino, un parco pubblico, dove tutti quanti i ragazzini potevano naturalmente avere accesso. Ci siamo ritrovati con un nuovo progetto, nuovo progetto che ci è stato detto che è sicuramente molto meno impattante, però è alto all'incirca 10 metri, quindi io penso che una barriera di 10 metri in PVC sia una cosa impattante.